YouTube Italia è una cosa bella perché esistono tanti creativi che aspettano solo di essere scovati non siate pigri, non guardate sempre i soliti tre o quattro canali, non date loro il dominio assoluto cercate qualcosa di diverso ogni tanto e ricordate che il numero di iscritti non fa lo YouTuber soprattutto condividete, condividete le cose positive di questa community che molti calpestano chiamandola fantomatica dicendo che non esiste le cose positive hanno il potere di riadrizzare le situazioni più buie il potere di far emergere il lato migliore di tutti noi cambiare le cose è veramente molto facile basta condividere un video che è trovato particolarmente originale scrivendo YouTube Italia è una cosa bella ma non fermarti qui, esplora anche l'hashtag ci sono un sacco di video che aspettano la tua opinione, un tuo commento e un tuo mi piace e un sacco di YouTubers che aspettano un tuo riscontro diretto YouTubers come la voce narrante che mi ha aiutato a fare questo video YouTubers con cui puoi parlare direttamente a cui puoi chiedere una mano, un aiuto, una collaborazione con i quali puoi fare amicizia Grazie a tutti Grazie a tutti